Massimo Bardazzi, siamo qui di fronte alla Torre delle Ore in un condominio che si affaccia su Piazza Guidiccioni. Qual è il problema e cosa vi fa arrabbiare? Il problema è rappresentato dal rumore insostenibile dato dai rintocchi delle campane per 12 ore al giorno, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, soprattutto evidente d'estate dovendo tenere le finestre aperte, ogni 15 minuti, quindi io la trovo molto assomigliante a una tortura cinese. Aspetta, guarda qui, ecco, c'è anche il gran finale. Una situazione insostenibile quindi, ma voi avete provato a contattare il comune e a far arrivare questa voce di protesta? Sì, sì, io ho scritto varie PEC, prima raccomandate, poi varie PEC, penso a un totale di 5-6, prima all'opera delle mura, poi direttamente al sindaco. Non ho mai ricevuto una risposta, quindi anche questo da cittadino risulta abbastanza frustrante. Qual è la vostra richiesta per risolvere questo problema? Allora, perlomeno ridurre l'entità del problema, facendo per esempio iniziare il rintocchio delle campane un po' più tardi della mattina, perché iniziano alle 8, uno può avere il diritto di riposare, di lavorare, quando è in ferri di dormire un po' di più se vuole, invece tutte le mattine alle 8 sono alla sveglia per tutti. Grazie.